SINISCONO SUL MARCIAPIEDE per pagare il loro debito ai traficanti. Come ha fatto con la sua modella, Palesa Cubeca? Console. I traficanti, quelli veri, sono uomini d'affari, avvocati, politici. Sono brava. Io vado a prezzi. Non posso venire i tuoi bambini. Non usciremo più da qui, lo sai bene. Calmati. Vedrai che quelli del consolato ci troveranno. Quando? Dove? In fondo all'oceano. Tu lasso cana, con quien tens a olonga, ola. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Grazie a tutti.